buongiorno buongiorno buon martedì buon martedì allora ragazze ci prepariamo come tutte le mattine e si va allora soldini per sigarette a chicca 4 si queste sono per me ce le famo scappa e via allora i chiavi della macchina di tani soli andiamoci a mettere il cappotto no no vabbè qualche modo faremo ciao a dopo oddio c'è un musino stamattina come tutte le mattine video di ieri online quindi se volete andare a vedere mi fa piacere ragazzi andrà bene di nulla stamane tutto gelato ragazze meno due gradi mamma mia tutto ghiacciato è come si farà chi lo sa ragazze ecco sono arrivata tutto gelato ciao 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 tutto gelato buongiorno 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 eccolo lui quando la metto sempre me la fa casca buongiorno come fa fa spai cala telecamera buongiorno mamma sta da fare colazione va venita nonna un pochino stamane siamo messe bene ragazze ma dun bene siamo messe bene stamani siamo messi bene di nulla mi era brutta che è successo senti ma il cellulare di nonna lo vuoi e lo vuoi il cellulare qua che non è dal cellulare aspetta eh mamma mannaggia vieni mira che ti do da 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 no che volevi allora che borsa o la borsa o la borsina di nonna oh mamma quanto pesa mamma 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 la mia lilla mamma la lilla ma è caccata la lilla nel fuoco non c'è mamma che c'è piedongelo se avevi il piedongelo con la bua con la vescichetta non andate le mette più le ciabatte le buttiamo via sa vero le buttiamo via oh belli questi occhiali signora signora ma cosa ti piacciono questi pantaloni con l'elastico perché perché stanno troppo stretti mi facciano quel culo allora se lo facciano te figura eh certo c'era anche una cinturina poi quando vengo te la cerco tutta dorata con le nappe insomma nasce lì io c'ho da andare a comprare la tinta le sigaretta a chicca o le sigaretta a nonna che c'ho solo questi non me le rompi eh sennò non fuma e l'amore babbo speriamo che lasciate andare giù come fare eh no no il campione lo fa lì in casa e non so se ci va ora stamani o oggi pomeriggio dopo domani ci può andare la palla ha detto se andava oggi che li portava il campione e stamani faceva il campione allora farà così me caccate la moglie nel fuoco non c'ho se la riccio non so se la copro me caccate la moglie nel fuoco e qui dietro scena non è bellissima ah quelle le mettiamo a foto la gambesina nonna mmm beeele poi che c'è vediamo un po faccio le tini eccoli questi di carbone vedi briganti ah via ciao dili mamma ciao a dopo ciao mamma dili mira spike ha rotto tutta la borsa di nonna visto briganti eh spike virbaccione che mi ha rotto tu vedi qui tutta la borsa mi ha rotto visto amore tieni questo tieni tieni faccio i rettini questo lo rimettiamo al suo posto perché c'è anche l'accentino dentro beh eh sì signora sì sì o fiamo caffè a nonna eh no 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 ah va bene allora stiamo senza caffè oh questo signora tutto dorato come brilla come brilla signora da rabbia eh mannaggia ha preso un po di nervosino vedi e noi la mettiamo dietro un bel amore che freddino amore mio oh bella questa rosa fossa fossa bello questo bello questo nonna non gli piace questo colore vero? ecco i capellini amore della nonna allora la signorina è vestita fate un po' vedere c'è l'unicorni davanti che belli l'unicorni e guardiamo la televisione un pochino vero? tanto che nonna fa le faccendine ciao le dina ciao le dina e Emily che ci vestiamo che dobbiamo andare a comprare la tinta per nonna no no l'olio no amore no no qui non si tocca vieni amore mio vieni ci vestiamo ma come no ci vestiamo e andiamo a a spasso eccoci qua eccoci qua tutti imbarcucati vero dove andiamo noi a pazzo a pazzo con me ci arrivate a casa no questa non te la levare perché è freddo vuoi accendere un pochino la stufa? eh siamo arrivati a casa ciao leone ciao amore mio ciao amore mio ciao ciao pre ciao amore ciao amore ciao che fai accendi la stufa accendiamo questa stufa eh signorina la nonna prende il caffè ditele un po' a queste tante oh mamma attenta ferma aspetta 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 oh madonna santa poi dopo nonna prende il caffè che fai col telecomando ora lo sai che facciamo Emily nonna si va a metter comoda va bene poi andiamo è lì il telecomando si manda la televisione furba ragazzi andiamo a prendere a metterci comode aia mi ha tirato il cappello è accesa la televisione aspetta un attimo andiamo a metterci comode oh guarda un po' aspetta che nonna andiamo a metterci comode poi che facciamo giochiamo prepariamo tutte le corsie per pranzo eh che facciamo aspetta amore così nonna se no eh mi hai tirato tutti i capelli dopo il pranzo nonna si fa la tinta attenta facciamo cascare tutto il telefono vuoi eh chi è questa oh senta eh non mi chiamano nessuno no 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 perché ti bruci e ti fa la bua bu 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 come famo noi bim 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 pronto pronto signora pronto come fa come fa come fa pronto signora oh vieni andiamo andiamo su a mettersi comode con nonna vieni no quello no perché c'è un bocciolino di caffè e ho paura vieni aspetta lo mettiamo ora ora mangiamo noi che sono le undici e dieci e facciamo pranzo vero amore eh oggi la nonna gli ha fatto la minestrina di tacchino il brodino di tacchino col formaggio no non mettere l'acqua lì Emily eh è vero mi schizzi brigante allora oggi ho fatto il sughetto col tonno ho messo la pasta per i miei fusilli e i loro tortiglioni e via ho preparato già il caffè ora quando arrivano lo lo sistemo lo metto giù e poi via oggi mi volevo fare la finta così perché c'ho un bel po' di ricrescita sono un po' vergognosa ragazze dov'è Memmi? Leone Leone ciao Leone ciao ciao Leone ciao Leone che ti vuoi ti vuoi i grattini i grattini i grattini i grattini ma quanto sei bella Emily che fai? eh attenta eh non ti fa male che ticchetta che è il pulci penso che si che fa nonna? coccola Leo mamma mia quanto è lungo guardate quanto è lungo Leo la tartaruga sprint emilie brava 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 amore brava amore che si fa? si mangia in questa casa eh Emily mamma mia che musino no no in testa non te lo dare ma che fai mangi eh mangi tutto amore allora la bimba si ammumenta subito oggi vizionina vado sonno capirai da stamattina io do una sparecchiata va veloce veloce e poi mi metto un attimino al computer così vi rispondo a tutti i messaggini ragazze va bene oh mamma mia allora eccoci qua vai mamma mia questa la voglio lavare però perché è tutta piena di formaggio questa grattaccia ma domani andiamo a Firenze con chicca quindi mi volevo fare la finta insomma volevo darmi una sistematina perché ho certi capelli magari non me li leggo nemmeno me li metto così e via così sciolti però un attimino che siano sistemati ecco perché se no allora questa acqua guardando per me la portata sta puzzulosa è lì la morita allora allora questa me la metto qui al computer perché voglio bere anche le scarpine di Emily le mettiamo qua belline sono gli ha preso le scarpine queste vabbè ora è già tanto ce l'ha della chicco odiamo o mi piacciono tanto anche se c'è il fiocchettino sono molto femminile mi piacciono di più a scarponcino c'è tutto il plantare dentro ma poi 54 euro mamma mia costano più le scarpe dei bimbi che quelle nostre ma proprio ma mi piacciono più a scarponcino prima c'era un negozio qui che le vedeva che le vendeva le scarpe si chiamava anni verdi ora non c'è più versi di comprarle le scarpe dei bambini qui quindi o bevi o a fuochi insomma ecco perché bisogna provargliele senza misurargliele è un problema grosso e quindi c'è questo negozio che c'ha tutta roba sportiva e c'ha anche la chicco tiene capito però 56 euro di scarpe cioè è una cosa un po' esagerata per una bambina di un anno perché poi tra un pari di mesi non gli stanno più perché giustamente gli cresce il piedino ma va bene ciao ciao digli mi sono svegliata ah la stufa eh non ha accesa la stufa e c'è Leo là che gioca eh è sgaruffata è tutta sgaruffata oh mamma mia eh vuoi fare il video da sola fai il video a nonna eh tutta sgaruffata glielo butti un bacino alle tate buttagli un bacino no si rompe così si rompe Emily Emily buttagli un bacino alle tate buttagli un bacino alle tate questo lascialo buttagli un bacino alle tate eh glielo butti un bacino alle tate eh oh mamma stai attenta ambriafella si è appena svegliata allora io ora mi andrei a fare sta tinta perché eh Leo attento che hai accesa la stufa che bruci eh Leone quando inizierai a dire qualche parolino oh bravo è fatica ciao si sono leticati briciola e Leo si ma brutto proprio eh si sono sgaruffati tutti mira il pelo e c'è sti tonti eh perché vi leticate guarda come l'ha tutta arruffata eh e te ti ha colpito subito nel naso eh tonta tonto 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 eh chi è cascato la mollettina eh ovvia stai qui con il nonno non va a farsi sta tinta poi ti fa la merendina non la non la non può portare un po' di luccate la tua ma metterà un po' niente l'ho paura per la città apri la porta dai caldo no ma è qui eh ah no no pensavo fosse sempre là ecco ora perché gli hai buttato la cosa in terra ci caschi ci caschi eh ora se ci vai sopra scivoli bummine eccola data bene via eh non è successo niente eh madonna mi ha fatto aver paura Emily eh bummine come ha fatto bummine ora ci scivoli perché fai così mannaggia eh bummine fai a nonno che gli fai a nonno i controlli se c'è là le putante ah 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 brigante via stai qui con il nonno non va a farsi la tinta eh no via eh nemmeno se ti metti a vedere le cose ah la nonna ha le ciabatte bucate piru 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 cambio di programma prima la meridina meme con la bananina l'arancio la mela che fanno tanto bene c'è tante vitamine è vero nell'arancio gli metto sempre un arancio che a lei gli piace poi gli fa bene l'arancio fa proprio bene ecco bambini che c'è la vitamina C eh allora dai tiriamo sul il seggiolone Emily tiriamo qua il seggiolone vieni come dice la canzoncina oh 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 tre galletti verdi e gialli professori di alligalli il pulcino d'allerino salutarono così alligallio alligallio questo non si tocca qua nonno ci fai prendere il il seggiolone tre pulcini gallerini bimbi rimbini bimbi rimbò butta un bacino alle tate glielo butti aspetta Emily mi fai senti glielo butti un bacino alle tate eh glielo butti un bacino butta un bacino alle tate come si va ecco nonno ci ha preso il seggiolone eccolo tre galletti verdi e gialli professori di alligalli i gallettino col cecchino salutarono così aspetta aspetta che nonno ti sistema ferma eccola leva le manine leva le manine se no te le prende leva le mani tira su le manine Emily attento vai leva le mani Emily no ecco così nonna ti tira su boop ovvia vediamo un po quanta ne mangia Emily aspetta ti prende il bavaglino nonna eccoci qua al bagno ma avete richiesto quale tinta faccio io faccio questa qua dell'eco color che non costa tanto vedete costa poco 4 euro e 75 e prendo il 6 che sarebbe biondo cenere scuro il cenere si usa per togliere il rosso dal dal capello ecco iniziamo subito a fare la tinta dai allora tinta fatta vedete ora sto in posa una mezz'oretta mi sembra sia una mezz'oretta si e poi dopo sciacquo io non uso quello che c'è all'interno della della confezione faccio il semplice bagno cioè shampoo e balsamo e poi dopo asciugo mi passo l'olietto della sindina e poi asciugo mamme non la voglio più ha mangiato tutto brava brava evilly ha mangiato tutto guardando ragazze mi sa che sta nevicando vedete un pochino non tanto però ci si è messa bellina allora la minonna si è fatta la tinta ora se l'è asciugata se l'è lavata questo che c'è qui è robinati che c'è vedi non c'è niente non si può prendere altro ora la nonna se le voleva andare a asciugare i capelli mannaggia me le fai andare a asciugare i capelli col fono che te hai paura del fono come ti fa nonna bum 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 no che no vedi che non c'è niente qui non è niente vedi la zia questo l'ha preso che c'è l'accettore di Louis Vuitton dentro l'ha preso che mettici gli orecchini perché levano gli accessori e ci mette tutti gli orecchini piercing in questi corsini vedi sia chi che ci fa ci mette piercing eh questo è un giornalino non c'è niente amore vedi vedi non c'è niente vedi poi il giornalino di vero c'è niente di qua si apre guarda di qua vedi che bel cuore con i rossetti eh ecco qua la tinta fatta capello asciugato pronta belli lucidi sono vero guarda che porconcino c'è niente non so quanto si possa vedere dalla telecamera però mi sembrano belli lucidi va bene ragazzi io con questo vi saluto e ci sentiamo domani no perché vado a Firenze dopo domani che è il compleanno di Dani ciao ciao